Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi 20 gennaio 2021. Il Premier Giuseppe Conte ha ottenuto anche il via libera del Senato, ma la maggioranza resta molto risicata e le opposizioni invocano l'intervento del Capo dello Stato, mentre la situazione di Italia Viva resta a tenere complicata la situazione del Paese. Intanto oggi è il giorno dell'insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti. Comincia l'era Joe Biden. Ma andiamo subito sui giornali, cominciando con il Corriere della Sera che titola Fiducia a Conte, ma con soli 156 voti. Niente maggioranza assoluta al Senato. Tra i due sì di Forza Italia c'è Maria Rosa Rossi. Il centrodestra ci rivolgiamo al Colle. E allora leggiamo proprio questo richiamo in prima che riassume un po' la convulsa giornata di ieri. Il governo incassa la fiducia al Senato, ma non arriva alla maggioranza assoluta. Alla fine i voti sono 156 a favore e 140 contrari. Ne servivano 161. Italia Viva di Renzi si è astenuta. I volenterosi salvano il Premier. Il sì è arrivato anche dai forzisti Maria Rosa Rossi e Andrea Causin, subito espulsi dal partito e dal socialista Riccardo Nencini. Con questi numeri l'alleanza che sostiene il Premier esce dall'aula di Palazzo Madama oggettivamente più fragile. Ora non è da escludere che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vada al Colle per un colloquio con Mattarella. E proprio a Mattarella chiedono di intervenire il leghista Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il forzista Antonio Tajani. E vedete il fondo di Aldo Cazzulli che titola Nel segno della fragilità per tutta un'interminabile giornata nell'aula e nei corridoi del Senato non è risuonato nessuno dei numeri di cui parlano gli italiani, non il numero dei morti di Covid, tornato a livelli altissimi, non quello quasi altrettanto drammatico delle aziende fallite. Gli unici numeri erano quelli che si cercavano per sostenere la maggioranza guidata dal Premier Conte che come vedete in questa fotografia a centro pagina è l'avvocato che sembra lo specchio del paese e le lunghe trattative sfacciate e disperate titola il Corriere della Sera. E poi la vicenda del vaccino con meno dosi di vaccino. L'Italia si scaglia contro la Pfizer pronti ad azioni legali. La Pfizer riduce ancora le dosi, nuovi tagli dei vaccini che devono arrivare in Italia e il commissario straordinario Arcuri annuncia ricorsi contro l'azienda americana. Ieri i morti per il virus sono stati oltre 600 e quasi 10.500 i nuovi contagi. Il tasso di positività è sceso al 4,1%. L'alto numero dei contagi si rileva al netto di più tamponi eseguiti, 254 mila. Tra le regioni più colpite è la Sicilia, seguita dal Lazio ed Emilia-Romagna. Numeri drammatici nel Regno Unito, in un solo giorno, 1.600 morti. E passiamo alla Repubblica. Repubblica che, vedete, mostra il governo nel momento in cui incassa il sì del Senato, 156. Questo numero è il numero dei sì alla fiducia. 140 e no, 16 gli asseduti. Ma, come titola Repubblica, è un governo piccolo piccolo. Al Senato Conte ottiene solo la maggioranza relativa, con 156 voti, inclusi due di Forza Italia. Decisa, decisiva, l'astensione dei Renziani. Oggi il Premier al Quirinale, Franceschini, ora un patto di legislatura. Bisogna rinforzare i numeri con esponenti dell'Udc e moderati. E intanto dall'Europa il vice commissario Dombrovskis. Spero che l'instabilità politica non metta a rischio il recovery. Leggiamo, Francesco Bey, la crisi più pazza del mondo finisce peggio di come era iniziata. Con un VAR che fino all'ultimo tiene il Paese col fiato sospeso. Per due senatori, Ciampolillo e Nencini, che votano sì oltre l'ultima chiama, ma sul filo dei secondi, riammessi dalla Presidente Casellati, non cambiano la sostanza. Il Governo la scampa per il rotto della cuffia. I sì sono 156, 140 e no. Decisivi i 16 Renziani astenuti. Infatti con i 16 voti Renziani si sarebbe arrivato a un sostanziale pareggio. 156 da una parte, 156 dall'altra. Insomma, una situazione che non promette nulla di buono per il nostro Paese. E infatti il commento di Claudio Tito è gli alibi sono finiti. E poi il punto con Stefano Folli che parla dell'altra partita, quella che si gioca a Bruxelles. E poi vedete a centropagina anche una Washington blindata per il giorno di Biden, video di Trump, prego per lui. E poi ancora l'intervista all'amministratore delegato di Stellantis, motore europeo dell'innovazione, e passiamo alla stampa che cerca di riepilogare quello che è avvenuto nella convulsa giornata di ieri. Conte si salva ma così non governa. Il Presidente del Consiglio incassa l'appoggio di 17 costruttori. Bagarne la votazione finale al Senato. 156 sì, 140 no e 16 astenuti. Anche due transfughi di Forza Italia votano sì. Renzi, non avete la maggioranza. Salvini e Meloni si appellano a Mattarella. Già oggi Conte dovrebbe salire al Quirinale non per dimettersi. Non vuole compiere questo passo ora. Lo avrebbe fatto forse se i numeri del Senato fossero crollati sotto la soglia psicologica dei 155 senatori. Ma poi c'è l'analisi. Il vero prezzo della vendetta. Marcello Sorgi scrive, è inutile negarlo. Certe volte il gusto della vendetta diventa tale da non calcolarne il prezzo. Ieri al Senato è accaduto esattamente questo. Mentre si vendicava Renzi, assaporando le immagini dell'isolamento suo dei senatori di Italia Viva, Conte non immaginava che a tarda sera avrebbe dovuto fare i conti con i numeri avari di Palazzo Madama. E poi il colloquio Bettini evoca la terza gamba. Fabio Martini scrive, sono le 22.22 e da pochi attimi la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha annunciato l'esito del voto dei senatori, quei 150 sì che mettono il governo in un limbo dorato. E Goffredo Bettini, il timoniere del Partito Democratico, fa la sua prima valutazione a caldo. Era importante prendere la fiducia. E ancora il personaggio, la prigione di Berlusconi, Federico Geremica, scrive, se ne sta in disparte, la salute del resto non va ancora granché e l'umore non è più lo stesso dopo quel pessimo viaggio all'inferno del Covid. Ma chissà che pensa, osservando quel che sta accadendo a Roma, ma che pensa davvero, intendiamo, lui indiscusso campione del mondo nella caccia al responsabile. E poi vedete a centropagina la fotografia di Letizia Moratti. La Moratti, il PIL e la nostra umanità rubata dal virus. Con la bufera sulla vice della Lombardia, proviamo a leggere Caterina Soffici, l'idea di Letizia Moratti di distribuire vaccini in base al PIL delle regioni mi ha fatto venire in mente la famosa proposta lanciata da Jonathan Swift per farsi beffa dei ricchi inglesi che vessavano i poveri irlandesi. Il titolo completo del pamphlet è il seguente, una modesta proposta per impedire che i bambini della povera gente siano di peso per i loro genitori o per il paese e per renderli utili alla comunità. E intanto, come detto Biden giura, ora usciremo dalle tenebre. Joe Biden entra alla Casa Bianca, il presidente eletto si insedia oggi in una Washington in stato di guerra che teme scontri con i sovranisti. Per la prima volta in oltre 150 anni di storia americana, Trump se ne andrà senza salutare il suo successore. E passiamo all'avvenire, il giornale dei Vescovi italiani, maggioranza risicata, Conte incassa 156 sì, con due consensi di Forza Italia, con pagine fragile ma che potrebbe allargarsi. Italia viva si astiene, no dei centristi, nuovo avviso dall'Europa, l'instabilità non freni, il recovery plane. Con una bagarre finale al Senato passa la fiducia con margini decisamente ridotti, duello in aula tra Renzi e il Premier. E anche qui proviamo a leggere il richiamo che riassume questa convulsa giornata. Il conto dei voti di fiducia per il governo Conte si ferma al Senato a 156, ancora distante dai 161 richiesti per la maggioranza assoluta. Le aspettative del Premier di trovare volenterosi in grado di sostituire almeno in parte i Renziani di Italia Viva, anche ieri astenuti, sono andate deluse solo in parte, malgrado due senatori di Forza Italia e qualche ex 5 Stelle abbiano detto sì. Alla fine il verdetto è a lungo bloccato dalla disputa sul voto dell'ex pentastellato Ciampolillo, che non ha risposto a nessuna delle due chiamate e poi ha chiesto di esprimersi dicendo sì come il socialista Nencini. Duello in aula tra Renzi e Conte. Ora parla il Premier, il centrodestra ne chiede le dimissioni. E vediamo anche l'analisi politica con l'editoriale. Oltre la fiducia delle due Camere, un difficile terzo tempo, scrive Marco Iasevoli, è l'analisi di quel che è avvenuto in questi ultimi giorni. Il secondo tempo della crisi si è chiuso, come da previsioni, con una fiducia senza maggioranza assoluta al Senato. Non sono insomma risolti i problemi politici del Governo e della coalizione giallorossa ed è più complicato il percorso d'uscita del Paese dalla crisi sanitaria e sociale e dall'incertezza politica. Quel numeretto 156 testimonia che il percorso indicato dal Presidente del Consiglio Conte resta comunque in salita. Ciò che cambia sicuramente è la sceneggiatura del nuovo pezzo di legislatura iniziato ieri sera. Uno dei protagonisti, Matteo Renzi, si mette a bordo campo facendo un'altra scorta di quei famosi popcorn con cui aveva accolto a inizio legislatura l'alleanza giallo-verde propiziata anche allora dalle sue mosse. Evidentemente il leader di Italia Viva è convinto che la trattativa tra il Premier e i volenterosi darà frutti mediocre e persino indigeribili e che una ragione incassata ex post possa poi cancellare o sfumare il torto ex ante di aver ribaltato il voto il tavolo in un momento di fragilità del Paese. L'altro protagonista, Giuseppe Conte, resta al centro della scena ma indebolito. Nei discorsi della fiducia alle Camere ha ceduto su richieste che l'intera coalizione, al netto delle intemperanze d'Italia Viva, aveva messo sul tavolo da molti mesi la prospettiva di un rimpasto, la consegna della delega ai servizi segreti, lo sblocco delle riforme istituzionali, la parola fine a una serie di ambiguità in politica estera che si erano trascinate dal Conte 1. Poi via via il resto del commento. E poi vedete a centropagina la fotografia della Casa Bianca con tante bandiere intorno. Oggi la cerimonia del giuramento e Trump invita a pregare per la nuova amministrazione. L'alba di Biden comincia dalla cittadinanza agli stranieri. Ma torniamo in Italia con la vicenda Covid. Vaccinazione in frenata, solidarietà tra regioni. Pesano le mancate consegne. L'Unione Europea obiettivo 70% dei cittadini. Crescono di ora in ora i timori circa i ritardi nelle consegne delle dosi da parte di Pfizer. Ieri l'annuncio di un nuovo slittamento. A oggi si spera che il colosso farmaceutico giustifica con problemi produttivi. Risultato? Stop alle prime somministrazioni e a rischio le seconde. In serata il vertice tra arcuri e boccia con le regioni che chiedono garanzie. Sul tavolo l'ipotesi di una distribuzione equa delle fiali gestita da Roma in calo. Intanto i contagi. E passiamo al Sole 24 ore il giornale di Confindustria che titola Crisi. Al Senato Conte arriva a 156. Ma il vero problema sono le imprese che in Europa hanno un buco da mille miliardi. Proviamo a leggere allora questo richiamo. Caccia ai senatori volenterosi fino all'ultimo minuto prima del voto sulla fiducia al governo Conte. E alla fine la trattativa premia di misura il governo con la maggioranza relativa grazie all'astenzione di Italia Viva. Ora si apre il secondo tempo della crisi che servirà a verificare la scommessa del Premier che oggi salirà al Quirinale. La possibilità di ampliare il perimetro della maggioranza ha una quarta gamba centrista. Da ciò dipenderà l'esito finale della partita. Un esecutivo Conte Bisbis con un rimpasto oppure un Conte Terra. Intanto dal mondo dell'economia arrivano numeri che ampliano l'impatto della pandemia e rilanciano l'urgenza di risposte immediate e di sistema. Secondo un report dell'Associazione dei Mercati Finanziari e PwC, il 10% delle società europee ha riserve liquide per durare solo sei mesi. Non solo. Le imprese dell'Unione Europea avranno bisogno di 1.000 miliardi di euro di capitali freschi per risollevarsi. 175 solo per le imprese italiane. Di questi 1.000 miliardi nel prossimo biennio ne saranno disponibili sul mercato solo 400-550. Insomma, anche qui un quadro a tinte fosche. E intanto oggi il voto per il nuovo deficit, ma ristori 5, slitta a fine mese. Corsa contro il tempo al MEF per prolungare oltre gennaio la sospensione delle cartelle esattoriali. E intanto Tavares alza il velo su Stellantis. No a chiusure, bisogna ripensare il rapporto con la Cina. Il debutto a Wall Street di Stellantis, il nuovo gigante dell'auto, quello dato dalla fusione tra FCA e PSA, ha replicato il successo del giorno prima sulle piazze europee. Nel suo debutto ufficiale, nel ruolo di capo azienda, il CEO Carlos Tavares ha lanciato al mercato tre messaggi. Nessuna chiusura di impianti, innovazione di prodotto e nuove strategie per la Cina. Passiamo ai giornali di ambito regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale di Puglia e Basilicata, che titola Conte limita le perdite all'ultimo minuto. Governo di minoranza dopo la votazione sulla fiducia giallo, sul voto di Ciampolillo e Nencini. Duello in aula tra Renzi e il Premier, Salvini e la Meloni, intervenga il Quirinale, subito alle urne. Giornata al cardiopalma al Senato, 156 sì all'esecutivo, 5 in meno rispetto ai 161 che costituiscono la maggioranza assoluta. Italia viva si astiene, la berlusconiana Rossi fuori da forza Italia. E poi i classici tre richiami tabacci e una fase nuova serve un partito di centro. La scelta in Senato di Pugliesi e Lucani, così la crisi. Ora per ora il lungo giorno della verità. E poi vediamo a centropagina le vicende che riguardano il Covid e la pandemia. Vaccini, in arrivo la metà delle dosi. La Puglia protesta, a Potenza si studia un nuovo farmaco, caos scuole. Cala intanto il tasso dei contagi, ma nuovi focolai sono segnalati nel Brindisino e nell'indotto di Melfi, quindi in Basilicata. E poi una notizia di cronaca. Bari, ex boss, morto in solitudine, inchiesta dopo la denuncia del figlio, non poteva restare in carcere. È una delle tante storie di questa pandemia che non smette di provocare lutti e disastri in tutto il Paese, ma più in generale in tutto il mondo. E passiamo al messaggero, il giornale della Capitale, che riassume quanto avvenuto ieri. Governo a trazione ridotta. L'esecutivo incassa la fiducia con soli 156 voti. Conte, vado avanti e punta i centristi. Intanto pressing del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, meglio le dimissioni e poi il TER, quindi un nuovo incarico al Presidente Conte. Intanto la Rossi di Forza Italia, espulsa proprio ieri, in testa alla pattuglia dei transfughi. Proviamo a leggere anche qui il richiamo. Alla fine la fiducia c'è e Conte annuncia, vado avanti, si tratta comunque di una maggioranza attrazione ridotta, con il Premier impegnato già da oggi ad ampliare i numeri, puntando ai centristi. Salvi, ma è solo un punto di partenza. Tensione nel Partito Democratico per la tenuta del governo. Maria Rosaria Rossi di Forza Italia ha votato la fiducia e si trova in testa alla pattuglia dei transfughi. E poi l'intervista alla Polverini Lotti, gli parlo di politica. E ancora il Premier e gli impegni lasciati a metà, bacchettata dall'Unione Europea, a recovery incompleto, dai ristori alle grandi opere. Ecco che cosa manca. E poi vedete, a centro pagina, i ritardi di Pfizer, richiami a rischio, piano di emergenza. 14 regioni senza scorte di vaccini, governatori no all'accordo di solidarietà. Mauro Evangelisti, anche qui, riassume una giornata molto complicata. I ritardi di Pfizer diventano pesanti e costringono il governo a cambiare i piani e soprattutto a prepararne uno d'emergenza. 14 regioni sono senza scorte di vaccini. Serve un accordo solidale tra i governatori, ma è scontro tra gli enti. Le regioni più virtuose, come il Lazio, sono preoccupate dall'idea di svuotare i frigoriferi e aiutare le altre. E poi, vedete, la vita è bella anche al call center. L'attore Giorgio Cantarini, cinema fermo, sarà utile contro il Covid. E ancora, vediamo l'esempio nell'Unione Europea, le riforme si possono realizzare anche così, di Mario Aiello. E passiamo al mattino. Il giornale della Campania e di Napoli, che titola Conte si salva a paese bloccata. Il soccorso dei forzisti Rossi e Causin, l'appello al colle di Melone e Salvini. Il Premier pronto ad andare avanti, ma nelle commissioni la maggioranza regge solo in 13 su 28. E anche questo è un dato che nessun altro ha analizzato, cioè il peso della maggioranza all'interno delle singole commissioni di Camera e Senato. Pensate, su 28 commissioni presenti, dove si elaborano i progetti di legge, dove si esaminano i provvedimenti da sottoporre poi all'aula e al governo, ecco, soltanto in 13 su 28 c'è una maggioranza. Il Senato salva il governo Conte, ma con una fiducia di 156 voti il Paese è praticamente bloccato. Soltanto in 13 commissioni su 28 le forze che appoggiano l'esecutivo hanno ancora un margine per approvare i provvedimenti legislativi. In aula va in onda la bagarre sul voto in ritardo del grillino Ciampolillo e del socialista Nencini, che hanno votato sì, favorevoli anche i forzisti Rossi e Causin, appello al colle di Meloni e Salvini. E poi ancora a centropagina la sfida di Dema, ma rischia la corsa solitaria. L'ex PM candidato in Calabria, no del Partito Democratico, 5 stelle spaccati. E questa è un'altra vicenda. E poi passiamo e chiudiamo con il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, il giornale che si occupa della Calabria. Il caos del comando stronca il Paese, la crisi di governo, Conte supera fatica l'ostacolo del Senato e rilancia la Terza Repubblica. A ragione, Presidente Conte, non è un problema di numeri, ma di qualità del progetto. Allora, soprattutto se i numeri sono pochi, diciamo le cose come stanno e facciamo le riforme esecutive che servono. Torniamo a ragionare come Paese, non come regioni, sempre in guerra tra di loro e con lo Stato. Soprattutto, diciamolo senza vergognarci, che oggi è interesse del Nord come del Sud per seguire con il fondo perduto europeo e la riunificazione infrastrutturale, immateriale e materiale delle due Italie. Insomma, Roberto Napoletano mette proprio l'indice nel punto cruciale di questa partita in corso al governo centrale, ma anche nelle regioni, cioè il rapporto tra l'Italia del Nord e quella del Sud. Siamo i primi come creatori di debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo nell'Eurozona, 23,5 punti. Siamo i terzultimi come crollo del prodotto interno lordo, peggio di noi, Francia e Spagna. Siamo un Paese dove convivono 20 milioni di persone con un tasso di disoccupazione allargato, pari al triplo degli altri 40 milioni e un reddito pro capite dei primi che è pari a poco più della metà dei secondi. Siamo un Paese che con un assetto statuale frazionato, dove un patto scelerato tra la sinistra padronale tosco-emiliana e la destra lombardo-veneta a trazione leghista ha ridotto la sua economia a essere l'unica in Europa a non aver raggiunto i livelli pre-crisi del 2008 nel Nord come nel Sud. Questo patto scelerato si è consumato e si consume in un luogo nascosto della democrazia italiana, che è la conferenza Stato-Regioni, dove i diritti di cittadinanza sociale e infrastrutturale sono stati negati per un periodo lunghissimo, in uno slancio predatorio di così mio egoismo da minare dalle fondamenta la competitività e la produttività delle due Italie. Siamo per questo, non peraltro, il problema dell'Europa. E poi vedete, chiudiamo con il nuovo piano pandemico, disastro, Regioni chiedevano soldi allo Stato per applicarlo e il documento è rimasto nel cassetto. Le inefficienze del Nord che paga l'intero Paese. Era questo l'ultimo titolo del quale ci occupiamo quest'oggi. L'appuntamento resta fissato per domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.